Un caro saluto a tutte e a tutti. Oggi vi vogliamo parlare di produzione italiana di eccellenza nel campo della tecnologia e dell'innovazione, applicazione di questa tecnologia alle attività e ripercussioni sulla occupazione. Per farlo vi facciamo l'esempio di Amazon che ha comprato da una società italiana, la CMC di Città di Castello, un robot che si chiama Carton Wrap. Che caratteristiche ha questo robot? Molto semplicemente è in grado di confezionare pacchi, l'attività tipica di Amazon, ad una velocità fino a cinque volte superiore a quella di un normale lavoratore, quindi 6-700 confezioni l'ora. Naturalmente l'introduzione per il momento negli Stati Uniti di questi robot di produzione italiana sta creando allarme fra i lavoratori dell'azienda, perché si calcola che si potrebbero perdere 1.300 posti di lavoro. Naturalmente i vertici di Amazon, a partire dal suo presidente Dave Clark, hanno cercato di rassicurare, dicendo, lo ha fatto un portavoce, abbiamo intenzione di reinvestire i risparmi in nuovi servizi per i clienti, in modo tale da creare nuova occupazione compensativa dei posti di lavoro che si perdono. Perché abbiamo voluto fare questo esempio? Perché abbiamo da una parte un risultato positivo, ancora una volta l'affermazione di una produzione italiana di alta tecnologia e di alta innovazione, qui eccelliamo. Dall'altro sappiamo che queste produzioni innovate, l'utilizzo dei robot in particolare, il futuro dell'intelligenza artificiale, apre un interrogativo. Che cosa capiterà all'occupazione? Ci sarà nuova occupazione sostitutiva o perdita di posti di lavoro, in un momento che non è brillante per le economie mondiali, europee ed in Italia per quanto riguarda l'occupazione. Questo esempio ci invita a riflettere su questo importante argomento e inventare anche, da un punto di vista legislativo e contrattuale, nuove tutele per i lavoratori.